Secondo la Bibbia la parola mondo ha alcuni significati particolari, per esempio il mondo nella Bibbia si intende l'universo, la intera creazione da parte di Dio che abbraccia l'universo, le stelle, i mari, i pesci eccetera, e mentre per la parola terra si intende che il mondo è terra dove l'uomo vive e opera. In Anugura il mondo viene classificato con la vita degli uomini, quando nel mondo gli uomini agiscono contro il progetto di Dio e sono lontani da Dio. Il mondo non ama, ma odia, odia il figlio di Dio e lo uccide. Il mondo è l'opposto di Gesù Cristo perché pratica il peccato, la violenza, la morte. I veri seguaci di Cristo non appartengono al mondo ostile a Dio. Essi non sono del mondo anche se sono scelti dal mondo e vivono nel mondo. San Paolo dice, ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Essi sono chiamati da Dio a contribuire alla santificazione del mondo mediante l'esercizio della loro professione. Ma attenzione, penso di essere stato chiaro, Dio affida all'uomo la santificazione del mondo, rovinato dall'uomo stesso, non agisce da solo, vuole noi come suoi collaboratori, con la testimonianza della propria vita, il medico, l'ingegnere, l'operario, agendo direttamente nella loro professione, vivono la loro professione nella società, operando secondo il cuore di Dio. San Giovanni Evangelista afferma, non amate né il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. La testimonianza di vita di Padre Pio. Padre Pio, come San Francesco, voleva essere accanto all'Ebroso. Padre Pio non abbracciò il Lebroso, ma voleva costruire una casa per il Lebroso, una casa per gli ammalati. E fu tanto forte questa aspirazione, quest'amore verso il sofferente, verso il malato, che non ascoltò nessuno quando la gente sentì che voleva costruire un ospedale, un ospedale su una roccia, senza strade, senza telefono, senza acqua, senza luce elettrica, senza soldi. E la gente lo sconsigliava. E Padre Pio andò avanti. E una cosa è certa, che l'amore vince. E veramente, possiamo dire, nell'azione contrologica commessa da Padre Pio, la casa sollieva dalla sofferenza, da sogno diventa realtà.